Grazie Presidente, terrò la parola solo per tre minuti, quindi credo che non sarà una grande sofferenza per i colleghi. Intervengo non per assolvere ad un obbligo rituale, ma per consegnare all'Assemblea alcune scanne e considerazioni, insieme con la dichiarazione di voto favorevole dei deputati di Alleanza per l'Italia. In termini di competenze il rendiconto ha presentato saldi di bilancio che a consuntivo si sono rivelati migliori delle previsioni, mentre così non è stato in termini di cassa. Il dato saliente, pertanto, è che è rappresentato dal fatto che i tagli lineari introdotti con provvedimenti adottati dal 2008 al 2010 risultano aver ridotto del 29% le spese in conto capitale, solo del 2% le spese correnti. Così, con riferimento ai residui passivi, è segnalato un aumento di quelli provenienti dagli esercizi precedenti pari a 1,6 miliardi di euro. Secondo la Corte dei Conti, questa perdurante anomalia dei residui passivi è legata a più cause, tra queste le misure di contenimento della spesa, orientate allo slittamento dei pagamenti, ma anche una inadeguata qualità della legislazione, spesso carente di specifici progetti di fattibilità e gli schemi contabili obsoleti. Questo stato di cose evidenzia la condizione di difficoltà del controllo della spesa corrente, che si tenta di riequilibrare attraverso le forti riduzioni delle spese in conto capitale, che invece rappresentano il vero motore della crescita. Ne va trascurata il rilievo fatto dalla ragioneria dello Stato sulla concentrazione delle spese in quattro ministeri, che assorbono da soli l'87% del totale, con l'effetto di trascurare settori strategici come l'istruzione, la cultura, la ricerca, l'ambiente, il territorio, settori su cui si gioca lo sviluppo del Paese. Certo, sul rendiconto pesa l'effetto derivante dal durissimo contesto europeo, il fragello della speculazione finanziaria, la crisi greca, ma pesa anche l'azione dei governi passati, cui massimamente questo rendiconto si riferisce. Pesano le politiche dei tagli lineari, le inattendibilità di manovre che mettono nel conto entrate future eventuali, e poi mancano sempre all'appello. Il rendiconto reca in sé tutto questo, ma reca un monito, avanti a tutto, che è arrivata l'ora della crescita e dello sviluppo, poiché non è più pensabile il poter procedere ulteriormente nella contrazione della spesa per investimenti necessari alla ripresa dell'economia di un Paese che da troppo tempo attende e soffre. Grazie.